Siamo pronti, regia? Quasi. Siamo pronti? Ok. Uno, due, tre, via! Ciao, buonasera. Scusate, cari telespettatori, per la volta che a me ne sono aiuto di corsa, ma voi mi capite che c'era il mio soggiorino che mi rompevo a casa. Comunque, per chi mi vede o mi sente per la prima volta, io sono sempre mago un braccio a parete, qui non c'è il mio soggiorino di femminile, e se non ci credo, io ci muco, magari il vostro marido. Comunque, da questo momento sono a vostra disposizione, evitare il nuovo numero di telefono, perché qui non l'ho dovuto cambiare per motivi familiari. Evitare anche il prefisso, che è sempre qui, il 0095, perché mi chiamo a foto del distretto, e il numero è 616161. O allora potete anche chiamare all'1616166, basta che mi chiami tutti i giorni, e scuso la domenica, perché mangio i miei social. Chi vuole un consulto anche di presenza, può venire nello studio, vado anche l'indirizzo nuovo, che si trova in via, mangio, succo e via a faccio. Li ricevo tutti i pomeriggi, dalle 4 alle 9. Non venite tanto dato, perché lasciate a nicchio oscuro, e tutto fosse forse, e forse forse manco usate, comunque, dato che adesso vi ho detto un sogno, un sogno, un style, un vibe, potete anche telefonare. La regia mi fa segno che ci sono tante telefonate, e questo mi fa veramente piacere, cari amici, vuol dire che ho ancora muconato, e vi ringrazio di cuore. Passiamo alla prima telefonata. Pronto. Ciao, buonasera, chi sei? Sono Giovanni, delineare. Cosa vuoi sapere, Giovanni? Dato che lei è mago, perché non mi scrivi nella bella schedina, eh? Giovanni? Eh? Ma tu sai perché io sono qui? È perché non sei bella cosa, no? Giovanni, si vede che non capisci in caso. Sei contento. Ciao, passiamo alla prossima telefonata. Prenda, prenda. Ciao, buonasera, chi sei? Sogno Anna. E da dove mi chiami, Anna? Dove l'angelo andate? Ah, telefono da vicino. E cosa vuoi sapere? Se mi spazio con mio marito. E su te spazio, questo è su cazzo tua mia che mi conta. Sei contento? Sentiamo un'altra telefonata. Pronto. Ciao, buonasera, chi sei? Su safari di un'iette che do catimane ti fai i soldi, bastardo. Ah, come non c'è che un muro, no? Scusate, perché a volte arriva anche queste telefonate. Comunque. Pronto. Ciao, buonasera, chi sei? Sono Lucia. Mi fa piacere. Cosa vuoi sapere? Se il mio segno va d'accordo con quello del mio fidanzato. Tu di che segno sei? Sono Acquario. E lui? Vergine. E tu quanti anni hai? 28, no? Ah, bella pelusa, sì. E il tuo fidanzato? 48. Ah, faccio duca. Comunque. Mi hai detto che è vecino, Lucia. Sì, sì. E Lucia, uno che ha 48 anni, ancora è vecchio, muoce uno che ha cazzo qui veramente. E signor Mago, ma i nostri segni andranno d'accordo? Ma certo che io d'accordo. E anzi, ti sicuro tu hai chiesto un'opera. E che succede? Cataresta, piccapata. Ciao, sei contento. Abbiamo ancora telefonato. Pronto. Ciao, buonasera, chi sei? Non ho capito chi sei. Parla più forte che non ti sento. Ah, ora ho capito chi sei. Ora si sente che sei sempre un bastardo di prima. E con un altro. E con un altro che non ti dici. Oh, no. Scusate, purtroppo. Sentiamo la prossima telefonata. Pronto, pronto. Ciao, buonasera, chi sei? Mi chiamo Flora. E cosa vuoi sapere, Flora? Senti, siccome domani sono invitati in una veste di tucchi, bediloni, chi fai? Ma ti metto? Flora, sono andato di venti di tucchi, domenica la playa c'è la ferra dei scecchi. Sei contento? E passiamo all'altra telefonata. Pronto. Ciao, buonasera, chi sei? Finalmente ho preso la linea. Ah, mi fa piacere, sei stato fortunato. Sono quattro giorni che lo cerco. Ma io la trasmissione la faccio solo di sfira. E di fatto, mentre cambiavo canale, ho visto la sua immagine, ho telefonato solo. Bravo, e cosa decida? Che lei domani mattina, massimo alle nove, deve venire urgentemente in banca, perché allora noi ci protestiamo tre assegne. Sta premura, ciao. Ma chi vuoi raccogliere, l'aspetto, mi raccomando, va bene. E vabbè, domani ci vediamo, domani ci vediamo. Quello fichitario, se mi telefona quando andò in studio. Marico, adesso ora aspetta a me, chissà, faccia aspettare come aspetta. Ma, passiamo all'altra telefonata. Ma allora non ti abbastanza che ti caderebbe. E io non ci rispondo, e io non ci rispondo. Pronto, non mi sento, fai un ideale. Ma che si aggiustava, la televisione si aggiustava. Che stai regolando i bubi? I cat. Scusate, telespettatore, ormai si ha meritato, sono quasi le undi. Pronto. E non posso piacetare telefonato. Bofone. Ficcio un ideale, bofone. Ci vediamo alla prossima volta. Voi, tanto sapete, con un sogno, con un sogno, che faccio, che non faccio, saspetto, tu scappi. Esatto, potete chiesti armi. Ciao, buonasera, camucuna, mucuna, con una mucuna si fa i fatti soffi. Pronto. Ciao, buonasera. Pronto. Pronto. E chi usa la trasmissione. Pronto. Ora posso parare tranquillo. Pronto. Sì, ma fai un cazzo di piacere, che quando il sogno caca sta facendo la trasmissione, tu non mi rubi per il mio cuore, hai capito? Aspetti, ti passano piccacchini che terezze, ormai. Io non mi ricordo, capisci? Ormai, ormai, che ti comere. Ma lui, tu hai sempre la testa malato. Allora, io malato, non solo cattrugna a mangiare a te e tu figli. Ma io non mi ricordo. Io, non te ne vai. Tutto la lacca da marina, eh? A te non ti intare. Uno, uno. Stucundati, io non te la e da. Allora, io voglio, di metri meida. Allora, tu ti t'agrava, è che se è un busti, so è un grande maio, è un numero buccato. Usai che si. Allora, truma. Usai che si. Allora, qui parare? Bastato. Allora, scuola, mi lascia tu telefonamento. Bastato. 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 Bastato.